salve nuovo giorno e nuovo video che video oggi andiamo a vedere ragazzi posti in arrivo saluto tutti i belli e brutti soprattutto quelli che non mi amano ma uno a uno li sto bloccando quelli che pseudo denunce nei miei confronti per un account psn che non so neanche realmente se quell'account psn lo sta usando tizio cagno sembronio detto questo ci sono queste cose in arrivo e poi sono tutti quelli che giocano con il wifi o con le condizioni dei telefonini e ne sono abbastanza fieri dopo che io se li becco li gastemo perché avendo una super gigabyte anzi un gigabyte e mezzo di fibra come ben sapete tutti quanti ve la posso sempre mostrare però ormai sono tutti contenti ormai tutti hanno capito che giocare con wifi o connessioni col telefonino è la cosa migliore che ci possa stare detto questo andiamo avanti meglio che taccia che meglio che è meglio come diceva il buon grande puffo andiamo così dai con la vaffa mo club qualcuno da rinnovare camber direi di farlo riposare e ci mettiamo sì ragazzi sono non deluso stra deluso per la mia juve di ieri ragazzi ma per tante cose non per le piccole cose per le tante cose soprattutto per un soggetto che non voglio commentare meglio che taccia taccia per sempre meglio che taccia io buon Federico il nuovo cr7 che è meglio che se ne vada è meglio che se ne vada vabbè detto questo detto questo chi cazzo qua 15 giocatori p cls da p p mamma mia come sto male ragazzi eh ma non so domani se è questo boh metti che domani lo pesco quella lì era 99 ragazzi sti cazzi sti cazzo modo guardate queste livelli a ogni livello 25 mila punti madonna messandisi dell'ingronata chiedo scusa chi ho in squadra qua giusto perché tanto domani va beh ragazzi non so come funziona conami dopo però sta già 101 quindi qua sta lukako domani sistemiamo un po le letterine da domani usiamo queste letterina ancora vabbè dai io direi di andare così dai fotte siga ci prendiamo in chiacchi e vamos così che delusione sarà perché ti amo che delusione sarà perché ti amo e la mia juve mamma mia ragazzi non lo so che cazzo gli ha preso con due partiti che cacca facciamoci una ragione oh 764 sono arrivato come mai eh beh eh sì sempre fuori caso io devo beccare l'avversario guardate che vi ho detto match annullato ho messo richiedi connessione stabile ma tanto ormai con i wifi gpi g4 5g master salerno anche lui non perde chissà da quando 207 punti ma vabbè salernitana non voglio dire nulla non voglio dire nulla però a sto punto visto che lui gioca così io gioco così schema di gioco come gioca lui che schema è a ramburo e che nuovo questo da giocare minchia marchini come sta portiamo a matteo se vediamo come si comporta e questo lo mettiamo più in qua questo più in qua questo più in qua questo più in qua questo qua e mettiamo un buon lucacone ok poi difensivo no lui ti ha un coraggio Luca con avanti e contropiede messi attacco uno due tre rigorista lui destra oh destra lui sinistra lui minchia gioia il passo come andata puttana lunga lui capitano buon messi se ci avessimo avuto messi ieri la sì che avrebbe fatto la differenza allora ragazzi per me è questo neanche 60 partite a 127 127 partite mmm mi puzzo va bene proviamoci tanto lo sapete che cazzo è successo qua a Moscai ma 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 siamo ogni tanto giochiamo di nuovo con fish cerchiamo di concentrarci di andare in panne come sempre mmm mmm i 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 ammazzo lukaku che bel gol ha sbagliato niente oh non le prendo mai mica com'è lento questa è mattese iconic raga non l'ho mai provato proviamola oggi da luca però luca tu di aia e vabbè giusto così david luiz l'etra raga è tutta una cattacosa no no perché fuori gioco vabbè no no ah questa è l'altra roba raga ho convertito il primo oblac ce l'avevo al massimo gli ho dato l'ultimo oblac che ho provato che ho trovato tanto averne due non serviva niente gli erano scaduti i contratti e l'ho detto ma che si proviamo ecco rumenighe che perde palla vado oh dove cazzo va quel ma non era dentro alla falla perché fuori gioco ma rumenighe sempre fuori gioco sta oh mo cagli do questo fa sempre sto cazzo qua no no raga io sti gol non li posso prendere raga vabbè lo vuoi fare tu e lo faccio pure io e ha fatto esattamente questo e questo ha aggiunto una nuova complessione al gioco oh guarda peter io ero sulla fonte prima che il balle fuori gioco ma ancora non mi spiego no non fischiare i falli arbitro ma tanto nuovi account dobbiamo favorirli o no che dice che dite voi vai 2 a 1 eh ma sempre ti lamenti perché ti lamenti sempre ti lamenti sempre ti lamenti sempre ti lamenti sempre si mi lamentò sempre io mi dobbiamo sempre lamentare io fuori gioco di rumenighe no rumenighe ma scassate tre quarti di chi chiù raga a rumenighe e che vale ho capito ti metto qua dai no qua mamma mi sp è stato in là ma non di morte madonna mia che palle oh di nuovo così raga questo sembra così sta giocando guarda questo è il 2 a 1 fidatevi vieni vieni allo zii vieni buttami giù finalmente non sta in voli gioco stuccio tram tacca giù e deve farli longe di nuovo vai aspetta aspetta oh si gira quando torre stira vabbè non ci credo ma in mezzo alle gambe gli è passato rossa vai energia chi deve che sta lagando to' davanti coglio perché gliela dai a lui di nuovo raga però se metto l'attacca giù se ne vanno tutti giù se ne vanno tutti giù vai che se ne vanno vai ma non sapete giocare senza fare fallo no eh dovete per forza fare fallo niente non ci credo raga non ci voglio credere non ci voglio credere guardare ok va a vabbè 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 Che mazzata di lagadato Che mazzata di lagadato Che a che minuto ho preso Guardate raga Eh vabbè Che cosa vi devo dire Cazzo vi devo dire Non c'ho da commentare Non c'ho nulla da commentare ogni volta Non c'ho nulla da commentare Non c'ho nulla da commentare Non so cosa stia facendo adesso Un messo messo Naka l'agun che gioca con attacca S&P raga Ti piace Vabbè Poi dite che io mi sono sfortunato Va bene Ecco qua Sembrava strano ragazzi E io che vi ho detto prima Guardate quello La connessione sta andando a schifio Io vi avviso eh Mi sta andando a schifio la connessione E anche questo giocherà Guardate Niente raga Sta andando tutto a trombo Già me lo vedo io Guardate Guardate Niente raga Vanno piano Vanno tutti piano Vanno tutti piano Vanno tutti piano Tutti piano Guardate 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 Fidate raga Lo sapete Io lo conosco come le mie tasche Sto gioco Guardate 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 Adesso andranno tutti piano Fidatevi 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 3 a 2 Guardate come vanno veloce Guardate Guardate come vanno veloce Guardate Fidatevi Niente Messi che mi sbaglio in basso No vabbè Dai raga Questo è un secondo accanto Raga Si vede Aramburgo Ma sapi Guarda guardate Guardate come si è puttano Guardate Guardate come si è fermato Avete visto Avete visto Dai raga Ma dai Ma dai Poi vi spiego perché Fidatevi Poi vi spiego perché Guardate 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 io devo segnare il cross mamma mia mamma mia adesso lo dà lui di nuovo guardate questo è un secondo accanto guardate guardate questo è un secondo accanto uno che sa fare queste finte ma quanto sat vale che nervoso che mi vengo che nervoso che nervoso che mi vengo che cazzo di nervoso che mi vengo quando beccare questi oh madonna mi che palle adesso ci sono ...movemento sull'esercizio e ci vediamo un cambiamento. Due cambiamenti che stanno facendo. Gomes... ...drivese l'esercizio... ...Dobroin... ...lifte l'esercizio. ...Dobroin... ...Dobroin... ...Voi l'avete capito che è successo là? Messi! Ma perché non correne? ...Dobroin... ...Dobroin... ...Cazz... glielo ho dato a me sempre falli falli e sempre falli fate mamma mia è quel lato la tre o peda la palla lancia lui ma tu guarda come cazzo devo andare a perdere io guarda guarda fidatevi fidatevi è Cristiano Ronaldo è giusto è giusto è giusto è giusto è giusto è giusto ma guarda un po' ma come cazzo è falloso sto figlio di puttana la mia quarta di fila è giusto la nostra è giusto è giusto Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione